Sì, la partita come penso si sia visto è stata decisa dagli episodi, noi abbiamo concesso poco, siamo stati bravi a concedere poco, ma anche loro non ci hanno concesso grosse occasioni, forse abbiamo avuto il rigore e qualche altra occasione per poter sbloccare la partita, loro sono stati bravi a sfruttarla, noi un po' meno, quindi questo è un po' quello che ha portato al risultato. Secondo me la partita a livello di atteggiamento difensivo soprattutto e a livello di modo di affrontarla è stata affrontata nella maniera giusta, poi ovviamente il risultato ci penalizza, quindi vuol dire che dovremo lavorare di più. Sì, sicuramente ha un peso perché sappiamo dell'importanza della partita per la tifoseria, per la città, quindi siamo dispiaciuti per questo, però noi dobbiamo essere bravi a non buttarci giù e mantenere la concentrazione, il morale alto perché comunque abbiamo un campionato ad affrontare e non finisce oggi dopo una sconfitta nel derby, quindi sicuramente dobbiamo essere bravi a mantenere lucidità e lavorare, adesso abbiamo due settimane per poter lavorare per la prossima partita, quindi dobbiamo essere bravi a lavorare e fare di più, perché evidentemente quello che abbiamo fatto fino adesso non basta.